Quali sono le novità per questa edizione 2017? Più che novità diciamo che sono dei dispiaceri, non novità, nel senso che noi avevamo programmato anche i fuochi piromusicali, ormai è una tradizione, purtroppo sono stati negati proprio due giorni fa, questo è il lato negativo diciamo. Altrimenti la novità diciamo che viene dall'artista, abbiamo do di battaglia come artista, come cantante, poi le due bande tradizionali pugliesi, quelli di Conversano e di Francavilla Fontana, poi a seguire per la processione la banda di Ancarano e via via il concerto di ragazzi che fanno lo spettacolo domani sera. Cosa rappresenta per il popolo giuliese questa festa? I festeggiamenti di Maria Santissima dello Spendore è una tradizione che dura dal 1557, è un po' decaduta negli ultimi anni fino all'81, poi ripresa e rimessa su dopo l'81, fino ad arrivare i giorni nostri dove sono stati qui tutti i migliori cantanti di Sanremo, quindi tutte le varie manifestazioni delle più grandi bande internazionali e le bande pugliesi che effettivamente fanno da cornici a questa manifestazione. Sì, la Madonna è apparsa all'umile contadino Bertolino proprio dove sorge il convento, non è una tradizione veritiera per cui diciamo che in linea di massima i giuliesi ci tengono tantissimo a questa apparizione.